Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Destano sdegno e preoccupazione le recenti parole della vestale del neoliberismo targato Unione Europea Ursula von der Leyen. La notizia si trova ad esempio sul Fatto Quotidiano, ma in verità anche sugli altri quotidiani nazionali e internazionali. La signora von der Leyen ha ribadito puntualmente e con timbro fermo che bisogna aumentare la produzione di armi in Europa, proprio così, bisogna incrementare la produzione delle armi in Europa. Non paga di questa affermazione già surreale, la signora von der Leyen è andata oltre e ha asserito che bisognerebbe fare con le armi quanto si è fatto nei tre anni precedenti con il benedettissimo siero che è stato prodotto a tambur battente. Ora è evidente che le industrie belliche non possono che ringraziare sentitamente la signora von der Leyen per questa presa di posizione e viceversa i popoli europei debbono ragionevolmente tremare. Da che produrre nuove armi e magari anche alcune inviarne all'Ucraina, come è stato fatto indefessamente negli ultimi due anni, non è un buon segnale. Stiamo correndo rapidamente verso la guerra mondiale. Perché questo riarmo improvviso? Perché questo incremento della produzione di armi? Per donarle semplicemente all'Ucraina del Guito Zelensky, attore nato con la N maiuscola, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood, o per farle usare dagli europei in una possibile guerra di nuova generazione? Perché incrementare la produzione di armi? In ogni caso sono dichiarazioni francamente allarmanti quelle della signora von der Leyen.